Counseling filosofico e relazioni d'amore. Con il corso riceverai ben 153 slide in pdf e 35 lezioni in file audio della durata totale di 7 ore, un audiolibro scritto a due mani da me e dall'avvocatessa Claudia Cunico, amore esclusivo, amore libero, della durata di 3 ore e 52 minuti. Perché tutto questo? Semplicemente perché dell'amore si parla tanto ma ben pochi hanno le idee chiare sul suo reale significato, semplicemente perché ci sono persone indecise che non sanno se sono più adatti a vivere in coppia o da sole, se avere dei figli oppure no, se sposarsi o convivere, se abbracciare l'amore esclusivo o quello libero, se amare il mondo o una sola persona e tanto altro ancora che riguarda la sfera sentimentale. Più ti conosci e più sai scegliere quello che è giusto per te ed evitare ciò che in futuro ti potrebbe arrecare molto danno. Gelosia, passione, possesso, infatuazione oppure vero amore? E il vero amore va dissuto necessariamente in coppia o lo si può vivere anche in totale libertà? Esiste davvero cosa sia giusto o sbagliato nella sfera affettiva? O piuttosto occorre decidere insieme quale sia la cosa giusta per tutti. Interrogativi urgenti, vitali per non correre il rischio di intraprendere percorsi dolorosi per se stessi e per chi ci vive vicino.